Ciao, sono Valerio Novar. Oggi vi parlo degli Spiriti dell'Isola, un film di Martin McDonagh che è uscito al cinema il 2 febbraio ed è stato candidato a nove nomination agli Oscar 2023. Un film che va visto al cinema con una fotografia pazzesca, strano, paradossalmente, non è stato candidato per la miglior fotografia, ma una fotografia pazzesca, paesaggi bellissimi, e che è ambientato nel 1923 su un'isola immaginaria dell'Irlanda. Dico subito che il film è stato girato, in effetti, alle isole Aran. In Irlanda io ci sono stato, sull'isola più grande dell'isola Aran, paesaggi bellissimi, queste scogliere a picco sul mare e, insomma, il film è contornato da questa popolazione che vive all'interno di questa isola e sullo sfondo c'è la guerra civile irlandese del 1922-23 in cui si scontravano coloro che volevano far parte del Regno Unito e coloro che invece erano indipendentisti. E questa guerra fu una vera e propria guerra fratricida e quindi su questa isola si sente l'eco della guerra, degli spari e dei morti che avvenivano a Belfast, non molto lontano, in Irlanda del Nord. Ho trovato anche delle similitudini con Belfast, il film che invece abbiamo visto l'anno scorso, in bianco e nero, e che esplorava questo conflitto nella capitale del Nord Irlanda. Ma andiamo con ordine, cerchiamo di capire sia di cosa parla gli spiriti dell'isola e che di spiegare il finale, anche perché non è un film per tutti, lo dico subito, è un film che può risultare particolare, anche perché ai Golden Globe stranamente, era stato inserito stranamente, fino a un certo punto, era stato inserito come film commedia o musicale, tra l'altro ha vinto tre Golden Globe, di cui uno ha il protagonista, Colin Farrell, che a mio parere ha fatto una parte davvero emozionante, davvero molto particolare, con delle scene, delle sbroccate, come dico io, delle urla e dei dialoghi che sono molto particolari, molto sentiti e che ci fanno capire quanto questo attore, che era un po' sparito dai radar negli ultimi anni, sia davvero uno dei migliori nel panorama contemporaneo di Hollywood. Allora, i protagonisti sono Colin Farrell, Brandon Gleeson, femminizia con questi due amici che vivono su questa isola, due ex amici, perché il personaggio interpretato da Brandon Gleeson, Colm, all'improvviso, non vuole più parlare al suo vecchio amico, Padraic, interpretato da Colin Farrell. Non si capisce il motivo, Colin Farrell non si capacita di questa scelta dell'amico, di non parlargli più, e per tutto il film farà in modo di cercare di, insomma, di capire, di molestarlo, anche attraverso i gesti e le parole per dirgli, ma come, noi eravamo come fratelli e adesso non mi vuoi più parlare. Finché il film, diciamo, si snoda nei primi sei minuti. I primi sei minuti sono quelli che ti acchiappano e che ti fanno capire anche quale sarà il fulcro e il messaggio, il grande messaggio sulla guerra fratricida, che si sta combattendo anche non molto lontano dall'isola, che, insomma, sarà la prima guerra indipendentista irlandese. E si rispecchia questo conflitto in questa amicizia che, insomma, ci porta da alcune scene che fanno anche sorridere ad alcune scene molto più drammatiche per esplodere in un finale che non tutti hanno capito e che, anche in questo caso, come dico sempre, che poi questa è la bellezza del cinema, va molto a interpretazione, però che ti porta, insomma, alla domanda principale che è quella che riguarda, appunto, la guerra e la sua insensatezza. I due amici, insomma, uno dei due non vuole più parlargli finché gli dice io ho solo 12 anni da vivere e io morirò presto, apparentemente senza alcuna base, insomma, logica, ha detto che gli rimangono 12 anni da vivere il vecchio Colm e quindi non voglio sprecare il mio tempo con te che sei uno noioso, sei una persona noiosa, non mi piace quello di cui parli, quello che fai e, insomma, Colin Farrell ci rimane e dice ma come, siamo stati amici fino adesso e adesso sono diventato noioso, eccetera, e gli promette l'altro che si taglierà un dito ogni volta che Patrick, Colin Farrell, gli rivolgerà la parola e che preferisce trascorrere il tempo che gli rimane suonando il violino e per fare qualcosa per cui sarà ricordato anche negli anni a venire. Insomma, ci sono delle scene che possono risultare insensate, dei dialoghi che ti lasciano un po' così, come dire, sembrano addirittura banali, sembrano due bambini nel corpo di due adulti che è anche, insomma, anche questa una metafora della guerra e della insensatezza e dell'assurdità di come due fratelli si ritrovino in una situazione in cui sono uno contro l'altro e non c'è una via d'uscita positiva per nessuno dei due, anche perché poi durante il corso del film si capisce bene che la violenza genera altra violenza e che non c'è un lieto fine, se vogliamo. Per tutto il film Colin Farrell farà modo e maniera anche davvero con alcune scene, un'interpretazione ai suoi massimi livelli, secondo me sia Colin Farrell che Brendan Gleeson, ma anche la sorella di Padraic che è stata giustamente, l'attrice è stata giustamente candidata agli Oscar come migliore attrice non protagonista, fa una parte davvero interessante anche perché tutta la popolazione dell'isola poi su tutta la popolazione risuona questo conflitto interno, oltre alla guerra sullo sfondo, questo conflitto fra due amici e tutti si chiedono anche perché in una piccola isola come poteva essere un'isola irlandese, soprattutto negli anni venti, tutti sanno tutto di tutti e gli chiedono ai due spesso, ma avete litigato? Ma che è successo? E per tutto il film non c'è un vero e proprio motivo per cui i due hanno litigato ed è questo il grande messaggio filosofico che lancia il film e anche qui si fa riferimento alla guerra che per motivi geografici, religiosi, spesso futili, mette contro delle persone che fino a poco tempo prima avevano vissuto nella stessa città, avevano condiviso le stesse cose, gli stessi hobby, lo stesso pub e anche qui è fondamentale la figura del pub dove le persone si vanno ad incontrare, che vanno a bere una pinta, il vecchio Colm suona con un gruppo di giovani musicisti appena arrivati mentre Colin Farrell e il Padraic va spesso a bere una pinta e si ritrova solo e questa solitudine non riesce ad accettarla perché l'unica amica che ha è un'asina, Jenny, che è un altro personaggio fondamentale del film, anche perché gli animali assistono a questa escalation di violenza perché poi a tutti gli effetti questo film è una piccola escalation di violenza come la guerra stessa e gli animali assistono in ermi e sullo sfondo questo panorama, questo mare, queste scogliere, queste onde che si infrangono sugli scogli e la totale solitudine e la desolazione che circonda l'uomo nei confronti della guerra e nei confronti di qualcosa che non può portargli altro che dolore e morte. Ci sono delle inquadrature molto particolari che fanno vedere Colin Farrell con le sue lunghe passeggiate da una parte all'altra dell'isola in cui la camera l'inquadra da lontano e è piccolo in mezzo a questa natura bellissima splendida con questo sole che illumina l'isola. Io quando ci sono stato all'isola Aran purtroppo spesso c'è vento e pioggia ma in quelle giornate in cui c'è il sole e sono serene è davvero uno spettacolo trovarsi in mezzo alla natura più incontaminata. Per arrivare dicevo al finale del film un escalation che inizia con Colm che non parla più al suo amico e che effettivamente si taglia un dito ogni volta che il suo amico lo molesta tra virgolette o prova a rivolgergli la parola fino a che entrambi si fanno delle cose veramente brutte insomma si per ripicca si cominciano a a vendicare l'uno dell'altro e ci andrà di mezzo sia insomma l'asina di Patrick che per arrivare a questo finale con lo stesso Patrick Colin Farrell che decide di alle 14 il giorno del signore di bruciare la casa del suo amico con il suo amico dentro salvando solo il cane perché dice no e devi insomma mi devo vendicare ma salverò solo il cane e gli promette che avrebbe bruciato la casa di 14 nel giorno particolare come quello del signore tantissimi riferimenti religiosi anche in questo film anche perché anche il motivo religioso riguarda la guerra che si stava combattendo a Belfast e nell'ultima scena è emblematico il fatto che Colin Farrell appicca l'incendio alla casa e si intravede dalla finestra che c'era Colm dentro seduto come se niente fosse con le fiamme che iniziano a squarciare l'intero edificio e poco dopo però se lo ritrova sulla sulla spiaggia lo stesso Colm il suo amico pensando di averlo ucciso e lo spettatore rimane un attimo così con un dialogo che apparentemente non ha senso però in quel momento capiamo che Colm non è altro che una proiezione che vede lo stesso Patrick e quindi che in effetti è morto e se ci fate caso se rivedrete il film potete notare l'arrivo della Bansheez di questa strega del villaggio che non è altro che la morte che si insinua e dalla quale tutti volevano stare lontani e che attraverso i suoi presaggi predige presagisce volevo dire la morte delle persone e quindi dei protagonisti nell'ultima scena vediamo Patrick che si allontana e può sembrare che i due siano finalmente insieme ma anche questa vicinanza che poi si rispecchia nella locandina del film questa è veramente una cosa una cosa fantastica perché capiamo la locandina alla fine del film nonostante sembra che i due finalmente siano vicini con l'ultimo gesto violento di Patrick il fatto di bruciare la casa dell'amico e in realtà non sono mai stati così lontani perché il suo amico è morto era all'interno della casa quella è solo una proiezione immaginaria che vede Patrick e che alla fine si trova totalmente solo e che ci fa capire che la guerra e la violenza anche tra fratelli non portano ad altro che insomma a un finale negativo e alla morte in alcuni casi fatemi sapere se il film vi è piaciuto se vi è più chiaro il significato filosofico è un film che ripeto può non piacere non è per tutti ma che secondo me ha buone chance di vincere alcune statuette ai premi oscar anche perché sia tecnicamente sia a livello di sceneggiatura è fatto veramente bene la sceneggiatura credo che possa accaparrarsela vedremo se Colin Farrell ce la farà anche perché nel nella lista dei miglior attori ci sono pezzi grossi come Brandon Gleeson come Brandon Fraser che ha fatto un'interpretazione pazzesca in The Whale e però insomma si sono ben comportati anche gli altri attori di questo film sia Brandon Gleeson dicevo che l'attrice che interpreta la sorella di Padraic e che a un certo punto se ne va preoccupata perché stava per succedere quell'escalation di violenza che sarebbe poi sfociata nel finale drammatico del film è un film comico drammatico non lo definirei commedia ma è fatto veramente bene fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto io vi consiglio di iscrivervi al nostro canale youtube ciacchiazione attivate la campanellina per non perdervi le notifiche sui prossimi video che andremo a girare seguiteci su facebook e instagram ciacchiazione e io vi do appuntamento al prossimo video